Benvenuti a una nuova edizione del Tgweb di diregiovani.it. Giovani in quattro anni la spesa è aumentata. Ministeri, dipartimenti, strutture di missione, centri, studi, osservatori e comitati sono solo alcuni degli organi che in Italia sono impegnati nella tutela dei minori con uno sforzo economico per il governo centrale pari allo 0,7% del bilancio dello Stato, circa 390 euro per minorenne. Un valore che però è in crescita negli ultimi anni, anche se con qualche problema. Nell'asso temporale analizzato, stando al rapporto, i ministeri hanno incrementato la spesa diretta al netto dei costi per il personale della scuola, un aumento pari a un miliardo di euro. Si registra quindi una crescita pari a circa il 26% della spesa impegnata nel triennio 2012-2014 e di un altro 5% delle risorse assegnate nel 2015 rispetto all'anno precedente. Arrivano le app gratuite di Amazon. In occasione del Natale, Amazon ha lanciato un servizio che potrebbe rivoluzionare il mondo delle app. Si chiama Amazon Underground ed è anch'essa un'applicazione. Scaricandola da un dispositivo Android si potrà accedere in maniera completamente gratuita a un'intera libreria di oltre un migliaio di app che su Google Play Store o sull'Apple Store sono invece a pagamento. L'utente non dovrà pagare né il prezzo del download né eventuali contenuti aggiuntivi. Non solo perché non ci sarà nemmeno la pubblicità, ma come può essere possibile? La vera innovazione del servizio dell'azienda di Jeff Bezos è proprio nel riuscire a rendere le app profittevoli per gli sviluppatori senza far sborsare un centesimo al cliente. Il sistema funziona più o meno con lo stesso principio di Spotify o di Kindle Unlimited. Gli sviluppatori vengono pagati in base al tempo effettivo di utilizzo dell'applicazione da parte dell'utente. Anche i buchi neri hanno un limite. Anche i più ingordi non possono rimpinzarsi all'infinito e questo vale anche per i buchi neri, oggetti tra i più misteriosi e massicci dell'universo. Uno studio di Andrew King, Università di Leicester UK, dimostra che possono inglobare stelle, gas, polveri e quant'altro passi loro vicino fino a gonfiarsi al punto di raggiungere una massa equivalente a quella di 50 miliardi di quella del nostro Sole. Dopodiché non possono ingurgitare nient'altro. Il motivo pare semplice. Raggiunta a quella stazza perdono i dischi di gas che li circondano, al cui interno ci sono i gas e le stelle di cui il buco nero si nutre. Secondo questa teoria, quando il buco nero diventa troppo massiccio, il disco diventa instabile e si distrugge. La Ryder Cup 2022 sarà a Roma. Roma si è aggiudicata all'organizzazione della Ryder Cup 2022. Lo si è appreso nel corso della presentazione del logo della candidatura di Roma ai giochi del 2024. La gara di golf tra Europa e Stati Uniti, che si svolge ogni due anni, si giocherà al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia. La Ryder Cup è il terzo evento mondiale come copertura mediatica dopo Olimpiade Mondiale di Calcio. La decisione della commissione Ryder Cup Europe ha premiato la candidatura italiana che ha superato la concorrenza di Austria, Germania e Spagna. Si tratta di un successo storico per la federazione italiana. Arriva l'auto senza pilota di Baidu. Con la nuova sperimentazione messa in campo da Baidu, il principale motore di ricerca cinese, sembra proprio che la questione auto senza pilota sia un affare per soli colossi del web. Se Google prosegue infatti la sua sperimentazione sulle strade urbane di California e Texas, le sue vetture hanno già collezionato oltre 2 milioni di miglia percorsi, Baidu ha già conquistato le autostrade. Sia lungo i percorsi cittadini che quelli autostradali, la BMW Serie 3 scelta da Baidu si è cimentata con inversione ad U, retromarce e persino sorpassi. Il suo cervello elettronico, battezzato come Baidu Auto Brain, oltre a mappare il territorio e a garantire una guida ultra sicura, ha lanciato l'auto oltre le aspettative, facendola raggiungere anche i 100 km orari e rispondendo all'ambiente circostante sempre tempestivamente e nel migliore dei modi. Questa era l'ultima notizia, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, arrivederci!